Buon silvestro a tutti ragazzi come potete vedere oggi siamo in un nuovissimo video super mega spaziale e come avete letto dal titolo oggi vi porterò in una tipica giornata nella mia carissima zona industriale che in realtà mia non è però insomma ormai è diventata nostra forza di andarci anche se in realtà è un bel po' che non c'è ok non mi si fila la mascherina ragazzi se la metto aiuto stavo dicendo a forza di andarci è diventata ormai nostra anche se in realtà è un bel po' che non c'è andiamo stavo dicendo visto che la giornata ce lo permette direi che è giunto il momento di tornare a impennare un po' seriamente Ma lo state vedendo il movimento della marmuta? Fra ma non è normale sta cosa ecco perché fa sempre rumore adesso ci devo piantare una vite per tenerla ferma Oh cari mi chiedono di impennare Questo è un brutto segno sembrerebbe che io stia rimanendo senza benzina Ah io che volevo fare benzina laggiù dove devo andare e invece mi tocca farla subito sperando anche di arrivarci dal benzinaio soprattutto selezionare l'erogatore sullo schermo riformirsi all'erogatore 6 tieni appoggiata la carta ma che cos'è oggi? la giornata degli spirits a me basta che non mi fermano non mi fermino non mi fermiscano comunque lo scooter che fa un rumore bruttissimo che sembra quasi che stia per sbiellare io mi tocco le palline e spero proprio che non sia così spompo che tra un momento e l'altro potrebbe ripare e ora sento questa sensazione di sbielling lo buono oh eccoci qui arrivati nella zone oh nica style oh no 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 ciao capo della trap andiamo se mi ricordo ancora come si fa provo a tirare una bella grettetta non freno problema serio riproviamoci niente deve di riprovarci l'altra volta per sicurezza bella guattata vediamo se mi ricordo ancora come si gratta in ginocchio ma come cazzo mi faceva grattare in ginocchio ecco le chiavi maledette chiavi le perdo sempre il problema è che mi lascia andare un po' troppo ho paura anche di spaccarla sta cazzo di stuntwear a proposito fatemi vedere com'è messa non è che sta fresca però è caliente manual che manualino manualito riproviamo senza una manual manual no no davvero troppa ripresa io rischio di volare via ogni volta attenzione 125.4 tempus cioè guardate qua è sensato la ripresa che c'ha questa trasmissione è assurda ma non è sensato ci impegna davvero troppo non mi piace più vediamo se riesce ancora a impennare senza la mano skills proviamo un trick pazzesco 3, 2, 1 non si impenna ok e riproviamoci dicevo senza una manina poi in ginocchio dopodiché in piedi ah ma c'è la ghiaia fermi tutti non mi riesco a dire di cappottarmi ok ora che ho fatto un giro di riscaldamento si può provare ma questo si impenna quello no non mi riesco a dire di riscaldamento si può provare Devo dire che c'ha un allungo spettacolare e il blocco non è niente male Sarebbe da cambiare un attimo lo scarico per il sauna Sarebbe da cambiare un attimo lo scarico per il sauna Ma volete una notiziona? La notiziona è che appena arriviamo a 1000 iscritti vi trovo il big tutorial su come si impenna Willy Quindi mi raccomando se volete il big tutorial completo farò tipo una serie di più episodi Una serie Netflix In cui vi spiegherò passo per passo quello che io so fare con le mie capacità da ritardato Partiremo insieme dalle basi su come effettivamente iniziare a fare un'impennata Fino ad arrivare a fare cose del tipo le impennate in ginocchio, in piedi, in circle e via dicendo Senza la mano E che più ne ha più ne metta Ok io non è che sono effettivamente bravo a impennare Me la cavo, quello si Quindi io cercherò di darvi più informazioni possibili Perché alla fine le basi sono quelle Poi sta a voi imparare a fare i trick shooting in modo decente E niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Che non vi abbia annoiato troppo Fatemi sapere se voi preferite dei video un po' più corti O un video più lunghi Insomma fatemi sapere il mio notaggio perfetto secondo voi Qual è? E mi raccomando vi ricordo di iscrivervi al canale Così troppo il video Oltre a iscrivervi al video Porco dio Oltre che a iscrivervi al canale Vi invito a lasciare un like Che mi fa solo che piacere Aiuta l'algoritmo di youtube A farmi conoscere più persone E di commentare Lasciate anche il commento a cazzo Ditemi anche che numero di scarpe portate Insomma qualsiasi cosa va bene Che anche quello aiuta l'algoritmo E niente ragazzi Noi ci vediamo ad un prossimo video Vi saluto con questo bellissimo paesaggio Ciao Ciao